Sono il professor Giancarlo Isaia, presidente dell'Accademia di Medicina di Torino e vorrei comunicare che in relazione alla richiesta del governo irlandese di apporre sulle etichette delle bottiglie a contenenti alcolici scritte, peraltro non ancora definite, che comunque intendano mettere in risalto la possibilità di nuocere alla salute dei consumatori, decisione peraltro ancora al vaglio della comunità europea e che comunque ha già suscitato una serie di discussioni e di puntualizzazioni da varie parti del mondo non solo sanitario, l'Accademia di Medicina di Torino ha ritenuto di fare una riunione scientifica che sarà il giorno 23 maggio alle ore 21, riunione aperta al pubblico alla quale sarà possibile anche afferire da remoto collegandosi al sito www.accademiedimedicina.unito.it nel corso della quale alcuni colleghi che per autorevolezza, credibilità, curriculum hanno titolo a pronunciarsi su questa materia. I colleghi sono il professor Emanuele Albano, patologo generale dell'Università del Piemonte Orientale che si è occupato a livello biologico degli effetti dell'alcol sul metabolismo del fegato, il dottore Alessandro Comandone che è un oncologo, primario dell'ASL di Torino che si occuperà degli effetti cancerogeni, possibili effetti cancerogeni dell'alcol, il dottore Alessandro Mauro, professore ordinario di neurologia all'Università di Torino che si occuperà invece degli effetti sul sistema nervoso centrale e periferico dell'alcol, la dottoressa Etafino Chiaro che è una dietologo nutrizionista che ha lavorato a lungo all'ospedale Molinette di Torino che si occuperà degli aspetti nutrizionali dell'alcol sia in positivo che eventualmente in negativo, il dottor Floriano Rosina che è un gastroenterologo già primario dell'ospedale Gradenigo di Torino che si invece parlerà degli effetti dell'alcol sul apparato digerente. A tutti questi colleghi io ho pregato di rispondere in modo semplice, preciso ma scientificamente ineccepibile su questi quesiti che verranno loro posti e che certamente interesseranno non soltanto i medici ma tutta l'opinione pubblica in generale che non solo a livello di consumatori ma anche a livello di produttori è rimasta un pochettino perplessa di fronte a queste richieste e intende in questo modo, in qualche modo intendiamo come Accademia di Medicina dare una risposta definitiva, se non definitiva, quantomeno imparziale a questa problematica. Vi aspetto pertanto tutti il giorno 23 maggio alle ore 21 con possibilità di collegarsi da remoto afferendo al sito dell'Accademia di Medicina per essere edotti su queste problematiche.